L'università non si può far carico dei problemi legati alla vitalità di un centro storico, a dirlo è il rettore dell'Università del Molise Gian Maria Palmieri, ospite ieri mattina a Isernia dell'ISIS Fermi Mattei. Il numero uno dell'Unimol, prima del confronto coi ragazzi, ha parlato della possibilità che uno o più corsi di laurea tornino nella parte antica della città, lasciando intendere che questa è una strada difficilmente percorribile. Il 16 dicembre 2015 il Senato accademico deliberò la restituzione del Palazzo della Curia Vescovile di Via Mazzini, sede storica di scienze politiche, entro il 31 gennaio successivo. La facoltà venne quindi trasferita nell'immobile di Pesca e poi a Campobasso all'interno del compartimento giuridico. Troppo alti i costi di gestione dello storico edificio della Curia, circa 90 mila euro annui, perché l'Ateneo continuasse a sostenerli, pur avendo altre opzioni sicure e a costo zero. Il rettore si mostrò disponibile a discutere solo in presenza però di un progetto relativo a un polo d'eccellenza. L'idea dell'allora sindaco Brasiello, sostenuta dalla regione con 2 milioni e 400 mila euro mai utilizzati, fu quella di unire Unimol e Sapienza in un grande centro universitario infermieristico ubicato proprio in Via Mazzini che garantisse alla città la presenza di almeno 400 studenti. A distanza di anni di quel progetto di cui avrebbe dovuto farsi carico il comune in qualità di soggetto mediatore tra le parti non si è più parlato. Il tema del rientro dell'Unimol nel borgo antico di Sernia tuttavia è sempre rimasto attuale considerando l'impoverimento crescente di quello che un tempo era il cuore pulsante della città. Noi abbiamo una sede a Peschi, una sede accogliente, una sede all'avanguardia. Considero la distanza in termini reali di una sede rispetto a una comunità. La sede di Peschi è raggiungibile, è fruibile. Certo, se si rivelassero presenti delle opportunità di creare qualche percorso diverso a Sernia, purché sia sostenibile, l'università non si può fare carico dei problemi legati alla vitalità di un centro storico, di una comunità. Questo è qualcosa che appartiene alla responsabilità degli enti locali. L'università ha il dovere di garantire ai giovani del territorio e anche di altri territori qualità dei servizi formativi della ricerca. Questa è la nostra missione. Ci sono margini invece perché a Peschi si possa ospitare una scuola, vista la questione aperta sulla sicurezza degli istituti scolastici. Le è stata fatta questa richiesta? C'è sul tavolo questo tema oppure no? A me non risulta, nessuno me l'ha chiesto. Noi siamo abituati a affrontare le questioni nel momento in cui ci arrivano sul tavolo. Sul nostro tavolo non è arrivato un bel niente da questo punto di vista.